Informazioni sul traffico e poi torniamo con tutti gli aggiornamenti alle 12.30. Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sul traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Il traffico pendolare è in diminuzione e la circolazione sta tornando regolare ad eccezione dell'A22 autostrada del Brennero, chiusa verso Modena tra Bolsano Sud e Egnaura a causa di un incidente tra più camion e al momento ci sono delle code per 4 km anche per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza. Come di consueto monitoriamo il real time, le immagini ci giungono in diretta dall'area capitolina, come vedete si viaggia agevolmente senza nessuna difficoltà, analogo a situazione la ritroviamo in area partenopea all'altezza di Corso Malta. Volumi di traffico in aumento in questo primo weekend di marzo per quanti lo trascorreranno fuori porta anche per l'occasione dei festeggiamenti delle carnevale con possibili attese oggi sull'autosole in direzione della Versilia. Viabilità al momento compromessa dal vento forte sulla 16, Napoli Canosa tra Vallata e Candela e sulla 5 Torino Courmayer. Disagi, andiamo subito ad approfondire con l'ausilio della grafica, sulla 4 sia per cantine di lavoro che per un incidente, code per 4 km tra Sirmione e Peschiera per lavori e per un incidente tra Soave e Montebello in direzione Padova. E infine desidero segnalarvi code motivate da cantine di lavoro sulla 10, la Genova e 20 Miglia tra il bivio della 6 e il confine di Stato. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione ed Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità in collaborazione con il Centro Coordinamento, Informazione e Sicurezza Stradale. Guidate con prudenza, fate buon viaggio e buon proseguimento con le informazioni di Rai News. Vi aspetto alle ore 17.25. Arrivederci. Grazie a tutti.